133 dei 156 lavoratori dello stabilimento 2 della Bimo Italia in Val di Sangro sono a rischio posto occupazionale perché l'azienda ha deciso di fare alcune operazioni. Il segretario territoriale della UTEC, Riccardo De Feo, ci racconta meglio com'è questa vicenda. Allora, praticamente hanno aperto una procedura di mobilità per 133 persone dopo vari incontri che abbiamo fatto perché la IRPAS vorrebbe esternalizzare tutto il lavoro di produzione a una ditta terza e quindi però questa operazione comporterebbe un ulteriore ridimensionamento dello stipendio dei lavoratori e che già in passato hanno fatto grosse rinunce rinunciando ai ticket, ai buoni pasto praticamente e poi anche quando c'è stata la cassa integrazione lo si faceva mensilmente così l'azienda aveva comunque dei vantaggi e noi purtroppo prendevamo la metà dello stipendio. Allora ci hanno chiesto ulteriori sacrifici e dopo i vari incontri con l'azienda e due ipotesi di accordo siglati però perché questo era un percorso che dovevamo fare comunque in assemblea è stato rigettato in toto. E così oggi siamo qui, è vero che l'azienda anche oggi sul centro dice che vuole parlare con noi però comunque ha fatto già una rottura con noi perché noi in data 7 aprile avevamo rimandato all'azienda che volevamo concertare ancora e quindi trovare una soluzione perché noi ci teniamo a questo nostro lavoro e a tutti quanti i lavoratori insomma è fondamentale rimanere in azienda perché sappiamo bene che il lavoro è difficile e siamo in un fattore di crisi diciamo nazionale e allora di fronte a questa apertura di procedura di mobilità per centri delle persone se la RSU si è attivata insieme alle segreterie a proclamare 8 ore di sciopero per oggi venerdì per sabato e domenica la prima ora, l'ultima ora di tutti i turni e lunedì ulteriori 8 ore di sciopero per tutti i turni e abbiamo l'incontro in Mozzagrogna in Confindustria per vedere se ci sono delle soluzioni. Ci sono possibilità che l'azienda possa tornare sui suoi passi? Allora, tornare sui propri passi, qui il problema è che noi dobbiamo tornare sui propri passi la nostra linea è chiara, praticamente vogliamo lo stesso salario e gli stessi diritti che avevamo quindi se queste sono le condizioni siamo anche disponibili a parlare di esternalizzazione. Ricordiamo che questa azienda già in passato aveva avuto dei problemi poi c'era stato il cambio di denominazione sociale, qualche operazione a livello di proprietà? Sì, praticamente con l'altro stabilimento che sta circa a 200-300 metri da qua c'è stata la chiusura della linea 1 perché produceva film, diciamo, obsoleti e quindi adesso si sta puntando più che altro sul settore di nicchia e quindi su film più remunerativi e quindi già in passato c'è stato da 247 persone ci avevano chiesto 47 esuberi e oggi siamo arrivati a 162 grazie grazie